Accoglienza, educazione e opportunità sono queste le tre parole chiave della prima conferenza regionale su infanzia e adolescenza organizzata dalla Regione in collaborazione con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Istituto degli Innocenti. Un modo per fare il punto della situazione sull'universo minorile insieme a tutti quei soggetti che se ne occupano. I dati principali emersi sono che in Toscana la condizione dei bambini e dei ragazzi è mediamente migliore rispetto a quella dei loro coetanei italiani, ma diminuiscono le coppie con i figli, appena il 50% delle coppie residenti e ci sono quindi pochi bambini. Il 15% della popolazione toscana infatti ha tra gli 0 e 17 anni. Altro punto è il benessere e gli stili di vita degli adolescenti nell'era dei social network. Lì c'è un dato che mi ha preoccupato molto. Oltre il 70% di loro dice di non essere cosciente dei pericoli che corre navigando in internet o usando i social. Durante l'incontro la vicepresidente della regione toscana Stefania Saccardi ha ricordato come il livello delle comunità che si occupano dei minori sia altissimo ed ha annunciato che la regione attiverà un servizio di sostegno per tutte le vittime del forteto. Un bando con il quale cercheremo di affidare un servizio di presa in carico, di offerta di una serie di opportunità, di assistenza psicologica e anche di tutoraggio per consentire alle persone di rientrare nel mondo. Un appuntamento che ha come obiettivo quello di promuovere la sensibilità sulle tematiche e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, ma con attenzione anche ad un altro aspetto. Recuperare forse un ruolo anche della genitorialità perché si ha buoni figli quando si riesce ad avere, non tutti hanno purtroppo questa fortuna, anche dei buoni genitori.